Solo nell'appartamento nel quale era morta da poco, io andavo guardando alla luce della lampada, una ad una, le foto di mia madre, risalendo a poco a poco il tempo con lei, cercando la verità del volto che avevo tanto amato. E finalmente la trovai. Era una fotografia molto vecchia, cartonata, con gli angoli mangiucchiati, d'un color seppia smorto. Essa mostrava due bambini in piedi, che facevano gruppo all'estremità di un ponticello di legno, in un giardino d'inverno col tetto a vetri. Mia madre aveva allora, in 1898, cinque anni, suo fratello sette. Osservai la bambina e finalmente ritrovai mia madre. La luminosità del suo viso, la posizione ingenua delle sue mani, il posto che essa aveva docilmente occupato senza mostrarsi e senza nascondersi.